Questa è la villa di Castellammare di Stambia, chiudetevi tutte le foto. È stata aperta oggi, 25 marzo, più tardi vi è fatta l'inaugurazione. La villa di Castellammare di Stambia, chiudetevi tutte le foto. La villa di Castellammare di Stambia, chiudetevi tutte le foto. La villa di Castellammare di Stambia, chiudetevi tutte le foto. La villa di Castellammare di Stambia, chiudetevi tutte le foto. La villa di Castellammare di Stambia, chiudetevi tutte le foto. La villa di Castellammare di Stambia, chiudetevi tutte le foto. la villa di Castellammare di Stambia. la villa di Castellammare di Stambia. la villa di Castellammare di Stambia.